Salve a tutti, buonasera. Prima di tutto a nome della Camera dei Deputati vi do il benvenuto in questo palazzo. Vi ringrazio di aver risposto anche celermente ai nostri inviti. Come ha spiegato la mia collega Nesci ci sono delle incombenze che possono essere l'occasione per cominciare a lavorare insieme tutti quanti su provvedimenti e proposte immediate, concrete, che un po' vengono da incontri che abbiamo avuto con alcuni di voi. Noi nell'ultimo anno abbiamo avuto più richieste di incontro da parte di alcuni di voi, però visto che ci troviamo adesso da qui a dicembre ad affrontare un provvedimento come il decreto Stadi, un provvedimento come il disegno di legge delega sulla pubblica amministrazione e la legge di stabilità, noi vogliamo ascoltare le vostre proposte per il futuro del comparto sicurezza, difesa e soccorso, ma allo stesso tempo non vogliamo utilizzare il futuro come scusa per bloccare il vostro presente, per bloccare gli stipendi, per dire che non ci sono risorse adesso però un domani che si farà il riordino, allora poi risolviamo i problemi. Noi non ci stiamo e non abbiamo mai creduto, perché poi è un metodo che viene utilizzato spesso a usare il futuro per bloccare quelle che sono le sofferenze del presente ed è per questo che oggi questo incontro ha più obiettivi. Uno ve lo spiegherà dopo la mia collega Roberta Lombardi che appunto riguarda quello che verrà dopo, ma nello specifico vorremmo illustrarvi i nostri cinque punti, cercando di capire poi cosa ne pensiate, che presenteremo da domani al decreto Stadi, al Senato, al disegno di legge delega sulla pubblica amministrazione, agli altri decreti utili che vi riguardano e che aprono uno spiraglio per poter far approvare dei provvedimenti che vi riguardano e poi nella legge di stabilità. Il primo, nello specifico, è quello di cui si parla adesso, lo sblocco delle carriere nel 2015. Io prima di tutto vi ringrazio e vi ringrazio a nome del Movimento, ma anche in generale da parte di tutta la Camera dei Deputati, perché voi non state chiedendo in questo momento il rinnovo del contratto, che è una cosa che comunque vi spetterebbe. Voi in questo momento avete solo sollevato la questione delle carriere, del fatto che oggi ho incontrato ultimamente, ma faccio un riferimento al mio ultimo contatto con il comparto sicurezza, difesa e soccorso, c'era un ispettore capo, se non sbaglio, che mi spiegava che lui percepisce ancora lo stipendio dell'incarico che aveva precedentemente. E questo, in un momento in cui il vostro corpo, le vostre forze che rappresentate sono già in una situazione difficile per i beni strumentali che utilizzano, in questo momento almeno quello che vi spetta di diritto vi va dato. E noi crediamo di poterlo fare, perché qui si parla sempre delle risorse, qui dentro si dice sempre che i soldi non ci sono. Noi vi abbiamo fatto un esempio, una cisa dell'1% sul gioco d'azzardo in Italia vale 800 milioni di euro e ci siamo tenuti a ribasso, perché oggi il raccolto del gioco d'azzardo che fa lo Stato su 88 miliardi di euro che incassa ogni anno l'industria del gioco d'azzardo è 8,8. Quindi l'1% potrete fare voi chiaramente il conto. E quindi è chiaro fare l'addizione, cioè questa è una cosa con cui ci troviamo ogni giorno ad avere a che fare. E come in questo voi ci avete spiegato dove ci sono anche le risorse di andare a recuperare nei vostri settori, gli sprechi che riguardano i vostri settori. E per questo noi intendiamo già presentare questo emendamento domani al decreto Stadi e cominciare un percorso parlamentare che è fatto di tutti gli strumenti che si possono utilizzare. Noi abbiamo già annunciato ieri attraverso l'assemblea del nostro gruppo un ostruzionismo qualora non ci vengano concesse delle condizioni sia sul comparto forze dell'ordine, forze di difesa e soccorso e allo stesso tempo su altre questioni che in questo momento sono prioritarie per il Paese. Io vi faccio presente, purtroppo, ahimè, questa è una denuncia che ha fatto anche la Presidente della Camera, quindi so che la condivide, in questo momento alla Camera dei Deputati sono dieci giorni che si mettono schede nelle urne perché bisogna eleggere due giudici della Corte Costituzionale paralizzando gran parte del lavoro parlamentare. Questa è una cosa che non è per noi accettabile e speriamo che da domani si possa tornare a lavorare sui provvedimenti che interessano il Paese. Secondo, il 2014, noi abbiamo studiato attentamente la questione del fondo perequativo. Quando è stato fatto il blocco degli stipendi per tutto e tutto il comparto della pubblica amministrazione, sappiamo che nel Decreto Tremonti del 2010 fu creato questo fondo perequativo che doveva quantomeno riconoscere la funzione che avete principale voi nella nostra società. Questo fondo perequativo è stato riempito sempre di meno fino a che nel 2014 a quello che ci risulta la tesoreria dello Stato non è stato assolutamente implementato. Allora, dal nostro punto di vista un altro emendamento che presenteremo subito è quello quantomeno di riconoscervi quello che spettava dal fondo perequativo, quindi dall'assegno una tantum che dovevate avere nel 2014. Questo per una semplice ragione. Noi non vogliamo far pesare niente, ma è molto semplice la questione. Abbiamo delle forze di polizia, delle forze di sicurezza, di difesa e di soccorso ancora credibili perché nonostante le condizioni in cui lavorano sono e mantengono i loro impegni. La politica anche con voi in questi anni non ha mantenuto gli impegni, ma noi pure siamo la politica in questo momento e vogliamo prenderci un impegno con voi e vogliamo portare avanti questo emendamento e questa proposta nei prossimi provvedimenti fino alla legge di stabilità. Poi vi spiegherò anche quali sono gli strumenti che utilizziamo di solito in Parlamento come opposizione per coinvolgere tutte le forze politiche e portarle a ragionare su una proposta e su un'opportunità. Stop affitti d'oro. Noi, come vi ho detto, abbiamo incontrato alcuni di voi, alcuni rappresentanti di categoria, altri semplici componenti delle forze che sono qui presenti, che non erano sindacalisti. Ci hanno spiegato un po' di cose, ad esempio quante caserme sono nella città di Roma, sono in affitto in appartamenti o locali che se venivano affittati ad un normale cittadino costavano il 70% in meno, invece ci sono dei affitti molto alti. Per carità, c'è da garantire tutte le questioni di sicurezza relative agli stabili, però noi dobbiamo fare un ragionamento e il ragionamento è quello che ci dite sempre voi. Prima di tutto individuiamo i beni demaniali, individuiamo i beni confiscati in zona e se sono compatibili con le esigenze della stazione o della caserma trasferiamoli lì. Allo stesso tempo noi vogliamo utilizzare una norma per fare questa cosa che abbiamo già ottenuto non per le forze, ma del comparto sicurezza, difesa e soccorso, ma per quanto riguarda la Camera dei Deputati. Vi parlo in prima persona, qui però è presente il mio collega Riccardo Fraccaro. Quando siamo arrivati qui abbiamo scoperto che la Camera pagava circa 32 milioni di euro di affitto a due palazzi di proprietà di un certo Scarpellini, imprenditore romano, per 32 milioni di euro anni, per palazzi che non costavano 32 milioni di euro se li volevi comprare. Quando siamo arrivati qui abbiamo fatto una norma, data la crisi i contratti di affitto particolarmente onerosi possono, si può recedere da questi contratti particolarmente onerosi, perché avevamo scoperto che questo era un contratto di affitto senza clausola di recesso fino al 2018, una sorta di win for life per questa persona. Bene, ci siamo riusciti utilizzando gli strumenti istruzionistici a far saltare questo genere di contratto e oggi si stanno smantellando tutte le superlettili di quello che sono i palazzi marini grazie alla norma Fraccaro e potremo portare un risparmio di 32 milioni di euro nelle casse della Camera, che noi potremmo investire anche inadeguamente le nostre strutture già di proprietà o utilizzando delle strutture dei beni demaniali. La stessa norma, Roberta Lombardi che ha presentato l'emendamento, la riproporrà per quanto riguarda le caserme, le stazioni, tutto quello che riguarda i vostri immobili e la utilizzeremo per recuperare risorse, per fare cosa? Risorse che devono necessariamente essere vincolate alla destinazione personale delle forze del comparto sicurezza e soccorso e difesa. Che cosa vogliamo farci? Prima di tutto continuare a rispettare gli impegni sui vostri contratti. Il nostro obiettivo è non permettere il blocco delle carriere nel 2015 e questo è un impegno che prendiamo con voi, ma ancora la questione delle dotazioni, degli strumenti e delle tecnologie che devono essere idonee a quello che vi riguarda. Non è che togliamo le stazioni dagli stabili che abbiamo in affitto e quelle risorse che risparmiamo magari le destiniamo ad altre cose. Devono rimanere nel comparto che vi riguarda, nel vostro comparto e devono servire a dare nuove strumentazioni, devono servire a coprire le spese che riguardano i vostri avanzamenti di carriera, devono servire... Io ho visitato una stazione dei carabinieri dove i carabinieri mi spiegavano che avevano comprato i computer loro perché avevano dei computer vecchissimi che non potevano utilizzare, devono servire a dare dignità alle persone, agli uomini e alle donne che ogni giorno mandano avanti il lavoro, la lotta a quella che è la criminalità su tutti i territori. E per questo c'è un emendamento che presenteremo domani e che in questo momento è in atto il coordinamento formale del testo presso i nostri uffici legislativi. Infine, una proposta, non crediamo di risolvere tutti i problemi con questo. È una proposta che viene da alcuni di noi e noi ci siamo sentiti di portarla avanti. È l'8 per 1000 al comparto sicurezza. L'8 per 1000, per carità, non è che rappresenterà la soluzione finanziaria ai problemi del comparto sicurezza e di tutte le altre forze che riguardano il vostro settore. Però è un segnale per noi. È un segnale perché il patto sociale su cui si regge l'Italia, su cui si regge la Repubblica italiana è fatta da sicurezza, giustizia e buon governo. Voi siete una parte del patto sociale e se i cittadini ne hanno l'opportunità sono sicuro che potranno mostrarvi riconoscenza. E l'8 per 1000 è un passaggio per mostrare riconoscenza a quelle persone che ogni giorno ci garantiscono la sicurezza nonostante tutte le difficoltà che hanno. Io questo ci tenevo a dirvi a nome del gruppo parlamentare che oggi ho il piacere di rappresentare e vorremmo avere l'onore da parte vostra di contributi sia su queste proposte ma soprattutto su quello che vi dirà Roberta dopo. L'obiettivo è uno, creare una rete. È importantissimo. Teniamoci in contatto. Oggi non è un incontro così saltuario. Abbiamo fatto prima a mettervi insieme tutti che a rispondere a tutte le richieste di incontro che ci venivano. E nel concludere io non posso che ringraziarvi a nome del Parlamento italiano e della Camera che io rappresento per quello che fate ogni giorno tra le nostre strade, nelle caserme e per la sicurezza dei cittadini italiani. Grazie. Grazie.